Dopo l'ordinanza emessa dal Presidente della Regione, Luca Ceriscioli, di chiudere le scuole e di sospendere tutte le manifestazioni pubbliche, anche i Vescovi delle Marche, in un comunicato stampa, hanno diffuso delle regole comportamentali da applicare per combattere la diffusione del virus. Le disposizioni emanate nel comunicato sono evitare in ogni modo la concentrazione di persone in luoghi ristretti e per lungo tempo, sospensione delle celebrazioni eucaristiche, feriali e festive fino al 4 di marzo, le chiese rimarranno comunque aperte al culto e alla preghiera ma individuale, possibilità di svolgere funerali in forma breve e solo con parenti stretti, evitare nello svolgimento delle celebrazioni il segno della pace, ricevere la comunione solamente sulla mano e non in bocca, togliere l'acqua benedetta dalle acquasantiere, sospensione delle benedizioni pasquale delle famiglie fino al 4 di marzo, sospensione degli incontri di catechismo, dei gruppi parrocchiali e di tutte quelle attività legate alle formazioni ai doposcuola e agli oratori, sospensione dei servizi della Caritas parrocchiale e diocesana. I Vescovi immediatamente hanno chiesto di sospendere tutte le celebrazioni feriali e festive laddove ci sono quindi aggregazioni di persone, quindi in questo giorno in tutta la nostra diocesi non si celebrerà il rito delle ceneri. Questo però non vuol dire che le chiese siano chiuse, cioè la possibilità di entrare in chiesa, di pregare. Il Vescovo tra l'altro nel nostro sito ha emesso anche una sua riflessione sulla Quaresima che si può leggere in famiglia, si può leggere il Vangelo di questo giorno per dire il Signore non ci abbandona e noi non abbandoniamo le persone, ma nello stesso tempo però dobbiamo attenerci perché qui al di là anche di facili, potremmo dire, di un facile rivolgersi a Dio perché ci aiuti, occorre anche seguire quello che la scienza in questo tempo sta facendo e quindi una preghiera particolare perché gli uomini di scienza possono realmente arrivare a una soluzione. I Vescovi delle Marche in questo loro messaggio ci dicono anche, ecco, tutta la loro vicinanza, ci chiedono di pregare in particolar modo per coloro che sono stati colpiti dal coronavirus, quanti modi diversi si adoperano per limitarne le conseguenze, in particolare il personale sanitario e coloro che sono impegnati nella ricerca scientifica. Terminano chiedendo a tutti, e qui lo possiamo fare tutti, con un invito alla preghiera in particolare alla nostra patrona, alla patrona delle Marche che è la Madonna di Loreto, ci affidiamo a lei e alle mani e alle menti sapienti degli uomini.